Allora, oggi ce n'è per tutti. Io non parlo mai di arbitri, mai. Qualche volta ne ho parlato in maniera molto marginale, dando più opinioni personali e cercando comunque di giustificare sempre la squadra arbitrale, sempre di dire, beh, però sì, c'è l'errore, ma d'altra parte noi. E cercavo sempre di un po' coprire gli errori, compreso il famoso Milan-Spezia dell'anno dello scudetto. Quello rimarrà... sarà il nuovo gol di Montari. Siccome di solito chi si lamenta degli arbitri lo fa quando perde, io oggi lo faccio quando vinco, così non posso essere attaccato. Io oggi ho vinto, ma mi devo lamentare dell'arbitraggio. E ne ho il pieno diritto. Partiamo da... Da un fattore... Partiamo dal, diciamo, il pomo della discordia. Il rosso a Randers. Rosso al limite, che però, come anche sottolineato dall'arbitro, incaricato da Dazon, questa piattaforma ruba soldi, nel momento in cui c'è il contatto, l'arbitro è obbligato ad espellere il calciatore. Non importa se... Se il fallo sia grave o meno grave. E lì ho detto, vabbè. Rosso... Rossino, però. Vabbè. Tutto ok, se non dopo cinque minuti, questi ti fanno un cazzo di fallo tattico e non estrai il giallo. Ti fanno un altro fallo tattico e non estrai il giallo. Al terzo fallo tattico, volevo un po' vedere se tu non avessi entrato il giallo, si va al secondo tempo, un difensore dell'Udinese salta sulla caviglia di Ciucuese, viene fischiato fallo, cinque secondi dopo che è stato commesso. Non viene ammonito e né tanto meno espulso. Perché io sarò stronzo, ma io voglio rivedere questa partita giocata in parità numerica dal sessantesimo in poi, se sarebbe finita così. Forse sarebbe finita così, ma magari non col gol annullato al 95esimo. Forse sì. Poi, vogliamo dire che ci sono stati due errorini anche a favore del Milan. Siccome il detto dice lega l'asino dove vuole il padrone, ve lo dico, va bene, ci sono stati anche un paio di errori a favore del Milan. C'è stato un contatto dubbio tra Pavlovich e giocatore dell'Udinese. C'è stato anche il gol annullato. Il secondo gol annullato, fuori gioco di mezzo scarpino. Che però a questo punto rende lecita la decisione dell'arbitro. E adesso arriviamo, arriviamo a noi. Di solito facevo prima lo shampoo all'allenatore, al giocatore, soprattutto nell'era Pioli. Adesso, questa volta, siccome ho vinto, voglio fare il contrario. partiamo da una cosa molto importante. L'espulsione di Renders, tu giochi 70 minuti, quasi 80 con il recupero, con un uomo in meno, è diciamo normale che tu soffra l'avversario. È normale. Perché ti viene espuso tra l'altro un giocatore tra i più importanti della squadra e quindi è normale che tu chiunque ci metti a fare il suo lavoro compisci anche un uomo in meno, è normale che tu sia in difetto. È normale. Ciò non giustifica i due gol presi però annullati. Non li giustifica. perché il primo gol mi ricorda molto ma molto una cosa vista esattamente due settimane fa. Il gol, il secondo gol della Fiorentina. Stesso era difensivo. Palla tagliata. Gente che si disinteressa metaforicamente perché non ci arriva. Fase difensiva opropriosa e gol subito ma dinamica totalmente diversa che però potrebbe anche ricordare volendo il primo gol del Torino alla prima di campionato. Quindi significa che dal 17 di agosto al 19 ottobre la squadra difensivamente non è migliorata. Che poi si stessero giocando Pavlovice che non giocava da tanto e soprattutto Ciao che non giocava da ancora di più e che ha avuto un infortunio. Ve lo posso anche dare come attenuante ma certi errori difensivi io ve lo dico da due anni e mezzo a questa parte io non li vedo a fare non li vedo fare neanche dall'ultimo in classifica perché quel gol che ha fatto l'Udinese annullato nel primo tempo è un gol così vergognoso che probabilmente neanche loro stessi avrebbero preso. continuiamo con con l'analisi andando a parlare invece adesso del reparto offensivo il gol è stata una bella azione un bel assist un bel tiro sul gol non ho niente da dire ma dopo cosa è arrivato ragazzi dopo il gol almeno per la partita che ho visto io è arrivato il niente in fase offensiva è arrivato il niente lo conoscete il bello leggero e suave niente ecco quello è arrivato contropiedi non sappiamo neanche più cosa sono perché contropiedi ogni volta che Mignana prende il pallone guarda si butta a terra mai che gli venisse in mente di lanciare un terzino un esterno mai quattro passaggi filtranti tra cui uno clamoroso da Pavlovici Ufana verso Pulisic a campo aperto sbagliato sul finale l'azione la palla di Loftus Cic per Musa sbagliatissima due contro uno non siamo riusciti non solo a fare gol ma anche arrivare in porta e il gol è sbagliato di Abram a porta vuota il gol è sbagliato di Abram a porta vuota è lo scandalo del calcio cioè è lo scandalo del calcio io ero super cosciente di che giocatore abbiamo preso con Abram però ho sempre diciamo voluto dargli un po' di fiducia però ragazzi il gol sbagliato con l'Inter il gol sbagliato con la Torentina il gol sbagliato stasera il rigore sbagliato con la Torentina siamo già a 4 4 contro 2 l'assist con la Lazio e un gol su rigore gol del 4 a 0 cioè siamo 4 a 1 e mezzo a 1 e mezzo perché ok l'assist con la Lazio ma rigore contro il Venezia ragazzi per me ci mi giudisco veramente il culo scusate il termine chi mi è piaciuto veramente tanto è stato Fofana Fofana mi è piaciuto Cukueze mi è piaciuto Cukueze e Pulisic secondo me insieme meritano anche più di qualche opportunità mi è piaciuto anche Leao che non ha giocato quindi mi è piaciuto tantissimo e vi devo dire che per il giocatore che è ovvero scarso per me anche Terracciano la sufficienza se la può portare a casa ripeto questa partita in parità numerica quella che doveva essere dal sessantesimo in poi la vorrei di giocare perché voglio veramente vedere l'Udinese senza Ture a cosa si sarebbe aggrappata arbitri così dopo dopo partite così dovrebbero veramente farsi due anni di serie B perché non esiste non esiste ragazzi non esiste in nessuna forma non esiste nessuna forma uno scandalo del genere non è possibile e dopodiché perché perché poi ci sono gli errori arbitrali però si fa sempre no e poi gli errori analizzati in settimana sono sempre quelli contro il Milan sempre non so se ci fate caso sono sempre quelli contro il Milan quelli dove gli arbitri dicono eh no però qua avremmo dovuto come viene in mente anche il rigore non dato in Milan Roma l'anno scorso è vero che era già tipo 3 a 1 il risultato quindi sti cazzi però vengono sempre analizzati risultati gli errori arbitrali contro il Milan sarà un caso non credo e comunque anche quest'anno primi classifica per Caterini Rossi 3 Caterini Rossi in 3 partite Bartesaghi Ternandez e Randez vabbè i primi due quasi ininfluenti però ragazzi io direi di prestarci un po' attenzione e ve lo dico adesso ve lo dico adesso soprattutto ve lo dico in fondo la partita sapete che partita ho visto stasera io ho visto Genoa Milan dell'anno scorso che quel Genoa Milan eravamo primi in classifica siamo stati due settimane primi in classifica e io vi dissi ragazzi no ma non abbiamo vinto Giru Portiere Pulisic il gol la mano che non c'era io vi dissi no vi dissi no vi dissi secondo me c'è qualche errore di calcolo no siamo forti Pioli primo Pioli is on fire il campionato che abbiamo fatto l'avete visto quindi vi dico quest'anno in maniera preventiva ponete rimedio prima che sia troppo tardi ci vediamo domattina con la live reaction ci vediamo domattina anche con la carriera col Bradford su FC25 per chi interessasse e adesso vado a dormire perché ne posso più